buona serata a tutti cari amici fan dal vostro nicola de luci e bene come vedete nell'immagine di copertina del video l'attesissimo ritorno di goldberg è appunto atteso gioco di parole per la puntata di questa notte di friday night smackdown live vedremo cosa dirà e soprattutto cosa farà goldberg poi annunciato un nuovo episodio della firefly fan house per bray wyatt in riferimento alla rissa reale poi saranno di nuovo in azione probabilmente diranno qualcosa dei mizzi john morrison ed infine avremo una sfida per determinare la per decretare l'avversaria numero uno al titolo femminile di smackdown detenuto da belli match tra naomi alexa bliss carmela e dana brooke bene per questo andeprima è tutto ricordo la cosa più attesa della puntata sicuramente il ritorno di goldberg che molto probabilmente annuncerà il suo avversario per super showdown evento speciale un bel bel view che si terrà il 27 febbraio al riad in arabia saudita ciao a tutti